Seconda vittoria casalinga dopo il pareggio dell'altra volta per lo Sporting Catanzaro Lido 3 a 1 sul Melicucco, una partita sostanzialmente bella, un po' da una parte e un po' dall'altra primo tempo a favore dello Sporting, il secondo tempo ha tentato di rientrare un po' il Melicucco con il gol del 2 a 1, poi c'è stata la gemma finale di Mr. Gillo a chiudere tutto quanto il discorso Mr. Megna, giusta la mia disamina? Giusta non credo perché dopo dieci minuti la partita ce l'avevano in mano abbiamo preso due gol stupidi come di solito facciamo e quindi abbiamo messo la partita su un tappeto rosso per lo Sporting che poi ci aspettava e ripartiva, era normale che fosse così Io sono d'accordo con lei sul fatto che nel primo tempo avevate giocato un po' di più però a me è sembrato che i suoi giocatori fossero un po' individualisti, cercavano la soluzione personale La soluzione personale no, anche se negli ultimi 20 metri non eravamo lucidi infatti mi sono arrabbiato tantissimo perché non riuscivamo a chiudere le tante azioni che facevamo però ci sta, è una partita fuori casa, è una partita che ti trovi sotto di un gol preso così dopo tre minuti, il secondo è stato ancora peggio perché su una ripartenza il centrale sbaglia l'uscita invece di uscire scappa e scappa e li hanno mandati in porta e eravamo scoperti quindi da parla scoperta non si scappa, là deve saccare la fascia e l'altro centrale va a coprire non avremmo preso il secondo gol, forse sarebbe stata un'altra partita Mister Patti, stiamo intanto cominciando a prendere confidenza con questo campionato io ho detto sempre nelle telecroniche anche per Stadio Radio che siete stati ripescati all'ultimo momento avete un pochettino dovuto abituarvi, adesso sette punti cominciano ad essere un buon bottino anche se fuori casa poi ne parliamo Sì, sette punti non sono poca cosa, diciamo che noi abbiamo fatto tre partite in casa di cui due le abbiamo vinte con un pareggio, quindi l'andamento in casa è perfetto in linea abbiamo avuto qualche problema fuori casa, ma giusto perché la prima abbiamo avuto la sfortuna non solo quella di essere stati ripescati due giorni prima, che poi fra parentesi è comunque una fortuna di trovarsi in promozione comunque di affrontare una stilese arrabbiatissima, l'ha dimostrato nelle successive giornate a punteggio pieno poi siamo capitate a Bagnara, dove è un campo onestamente impraticabile abbiamo fatto tutto tranne che una partita di calcio, quindi non era giudicabile e poi domenica in effetti veniamo fuori da una brutta, pessima prestazione in quella di Reggio Calabria con la Ludo Sorabagnese e forse quella prestazione ci è servita parecchio oggi perché ho visto i ragazzi in tutto l'arco della settimana veramente carichi e vogliosi di riscartarsi immediatamente e quindi abbiamo saputo ben far fruttare quella sconvitta e oggi i ragazzi erano determinati, questa volta la sorte ci è girata un po' a favore trovando quel gol nei primissimi minuti quando invece nelle altre partite abbiamo già subito quattro rigori in cinque partite veramente un passivo importante e condizionante dopodiché siamo riusciti a fare anche il secondo gol però abbiamo chiuso il primo tempo solo 2-0 però quando si va poi nello spogliatore se rientra il rischio è di pensare di avere la partita nelle mani e quindi poi è esposta a qualche rischio